Il nocciolo ama il caldo e appartiene però alle prime piante avventuratesi in ambienti ostili dopo l'era glaciale. 8000 anni fa, nell'età della pietra, il nocciolo era molto diffuso in Europa centrale e prese ad espandersi anche al nord. Nocciole di alta qualità si trovano tuttavia soltanto al sole meridionale, in Spagna, in Turchia, in Italia, soprattutto su fertili terreni vulcanici, presso Avellino, alle pendici del Vesuvio e nel Lazio, al lago di Vico vicino a Viterbo e non distante da Roma, lì dove secondo la leggenda Ercole scavò come prova della sua forza una fossa nel terreno che divenne quindi il lago. È qui che lo acero tiene le sue nocciole. I frutti maturi cadono dal cespuglio, vengono quindi raccolti, lavati ed essiccati, in seguito sgusciati. Particolare importanza si attribuisce alla selezione, perché soltanto le nocciole migliori entrano in un commercio molto esigente. Prima di utilizzarle, le nocciole vengono tostate in casa lo hacker, per ottenerne il noto sapore fresco, intenso.